Della donazione al nostro Re dei Re, Signore dei Signori, da parte di Pastoruniti d'Italia ti do il benvenuto ai pastori, ai collaboratori, a tutti quelli che sono intervenuti, per noi è un piacere e un onore, abbiamo sicuramente questo tempo, sarà un tempo di vittoria, di benedizione, so che tanti sono venuti da tanto lontano, dovrebbero arrivare anche una squadra di Torino, dei pastori pure di Torino, abbiamo di Mercellin, abbiamo di Genova, però dopo presentiamo, veniamo perché ci sono dei pastori che chiudono la chiesa, nel senso che finiscono la riunione e fra poco saranno qui, io mi sento onorato per servire questi servi di Dio e aiutarli lì dove il Signore ci ha messo delle capacità, la gloria va sempre a lui. Voglio dare il benvenuto e voglio dirvi una cosa prima che inizio questa riunione, abbiamo avuto un problema di un pastore senza documenti fermato per due mesi a Modena e abbiamo pregato, siamo corsi con tutto quello che c'era da fare con la legge, due giorni fa è stato messo libero e sarà qui fra poco, l'amore si manifesta non con le parole ma con i fatti e noi abbiamo imparato con l'esperienza che è meglio dare una mano perché dopo uno ti vuole di bene più, vogliamo alzarsi in piedi e vogliamo iniziare questa riunione nel nome del Signore chiedendo prima a lui la sua guida, la sua unzione. Oh Signore Gesù ti ringraziamo che oggi siamo qui in questa riunione di pastore uniti d'Italia, tu hai portato dei servi, stai accompagnando altri servi che vengono qui a unirsi in questa comunione Signore e in questa visione per conquistare non solo per fare riunioni inutili ma per conquistare questo Milano a te Signore quanto tu Signore ci hai dato di servirti siamo onorati e ti prego nel nome di Gesù che la tua unzione sia su questa riunione, su tutti quelli che adorano il tuo nome, su ogni servo che dovrà portare la tua parola ti prego nel nome di Gesù, stendi la tua mano Padre, vogliamo che lo Spirito Santo prendi il controllo, non siamo qui per innalzare l'uomo, siamo qui per innalzare il Re dei Lei, il Signore dei Signori, il Principe della pace, il più forte, il campione dei campioni, Gesù di Nazareth che è qui presente per operare e ti ringraziamo per la visione che hai dato, ti ringraziamo per il pastore Gianzo che l'hai portato ancora in mezzo a noi nel nome di Gesù, la tua unzione che il popolo che tu l'hai affidato non cura con amore, con unzione, nel nome di Gesù ti prego Padre che in questo momento ci sia la nuvola e il fuoco tuo dello Spirito Santo su ciascuno di noi perché ogni cosa sia unicamente per la tua gloria e gloria di Gesù il Signore e il popolo di Dio dice Alleluia! Adesso il nostro coro fa tre cori e dopo di che abbiamo, grazie Signore, abbiamo un'abbondanza di adoratori di Dio. Non mi piace chiamarli cantanti ma sono adoratori di Dio, i cantanti sono fuori, nella chiesa si sono adoratori. Alleluia che la pace del Signore sia con voi fratelli che è venuta nella nostra chiesa, voglio ringraziare a Dio che voi siete qui perché il Signore ha permesso di che voi siete oggi qui davanti alla sua presenza. Iniziamo con il primo canto che dice se mi trovasse nella tempesta. Abbiamo avuto una tempesta fuori, non lo ringraziamo a noi perché questa tempesta ha avuto la nostra terra, però noi partiamo da una tempesta che è un problema, è un attacchio, 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 amè? Alleluia, gloria di Gesù il Signore. Iniziamo la testa del Signore. Se mi trovasse nella tempesta è un malissimo con me, perché Gesù il Signore è dentro La mia casa è fondata sulla roccia, e mai potrà essere esposa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Re, il Signore dei Signori, io te prego, se in Dio confiderò, te ador di Dio, io te prego, se in Dio confiderò, se in Dio confiderò, se in Dio confiderò, Si trovassi nella tempestà, alcun male io non temerò, E che Gesù vive dentro me, è lui che mi guida, la mia casa è fondata sulla roccia, che marco trae ser esposa, perché la roccia è Cristo, Gesù, il Re, il Signore, il Signore, di chi io temerò, se in Dio confiderò. Ma non di chi io temerò, se in Dio confiderò. Ma se in Dio confiderò, se in Dio confiderò. Molto chiaro che c'è questo canto, la casa è fondata sulla roccia, la roccia è Cristo, Gesù, alleluia, il Re del Signore. Acompañateci con le Madre e cari fratelli, alleluia. De questa victoria è nostra, amè, il Dio confiderò, è movimento nel Dio di Gesù, alleluia. La victoria è nostra, la victoria è nostra, nel Dio di Gesù. San Dio confiderò, è focused nel Dio mito danza, per la victoria è nostra, nel Dio con Dio con Dio, La vittoria è nostra, la vittoria è nostra, per il nome di Gesù. Sattano ai conflitti, sattano ai conflitti, per il nome di Gesù. Sattano ai conflitti, sattano ai conflitti, per il nome di Gesù. Sattano ai conflitti, sattano ai conflitti, per il nome di Gesù. Il nome di Gesù, sattano ai conflitti, sattano ai conflitti, per il nome di Gesù. In nome di Gesù Cristo tutto si può fare, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Gloriate, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Alleluia. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. con il corpo. a tutti. 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 e questi a tutti. a tutti. il ministero. a tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. che. perché a tutti. tutti. a tutti. a tutti. 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 e tutti. 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 . . tutti. . . tutti. . tutti. . tu. . . tutti. . 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